Ok, sono qui con Luis Caffarelli, mio vicino di studio e matematico di fama internazionale. Luis ha appena ricevuto il premio Wolf nel 2012. Farò le domande in inglese. Non chiederò come si sente perché è un po' banale. Non lo farò, non lo farò, non lo farò, non lo farò. Per esempio, quale è il risultato che ti piace più? Mi piace particolarmente in mio primo paper sui problemi liberali, perché prima di tutto c'era un lavoro molto bello di Levi e Stampakia, ma molto poco conoscevano come trattare i problemi, quindi era una guerra per lentamente cercare tutte le pezze per completare la teoria. Quindi è stato un periodo molto bello di ricerca. in un certo senso. Ok. E c'è un risultato o un problema che ti piace più studiare, che ti piace più avuto? Ho avuto molto avuto con le collaborazioni lungo termine, come ho scritto un paure di paper con Luis Enberg e Joel Sprague, e noi eravamo tre in New York, quindi siamo insieme, discutiamo, andare a un coffee e discutiamo di nuovo, e anche con Tannosopoulos e Salsa, lo stesso, venivano a Princeton, camminare a un cappuccino, venivano, quindi è stato un intercambio di idee, e questo è stato molto divertente poter lavorare così. quindi anche il lavoro e l'interazione con Tannosopoulos. Noi abbiamo collaborato un po' e è bello quando si senti nel blanco e dici qualcosa, e gli altri aggiungono più, e le cose stanno creando in un modo interattivo. È una bella forma di fare matematica. Sì. Ok, ora, un'altra domanda. Ci sono alcuni problemi difficili in matematica, uno di cui hai anche lavorato, è Neves Stokes. Il risultato di parciali regolari. Quali consideri la più difficoltà in questo problema? Perché è così difficile? Perché matematica ha fatto 100 anni e ancora stai? Beh, io credo, ok, io credo che sono difficili perché le diverse interazioni tra la pressione, il transporte, la viscosità, e penso che in un fluido incompressibile, la pressione, mettere un po' di più 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 di più. E, supposamente, si percebe instantanamente in tutto il luogo di più 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 di più. e, credo, che deve capire se un po' di più 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 di più. di più 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 di Ok, e una ultima domanda è, potete dare qualche consiglio ai nuovi generazioni, ai matematici, un consiglio generale? Sì, guardate una mente aperta, non concentrate in una sola zona o una sola tipo di problema, guardate questo, guardate questo, guardate questo, guardate questo, guardate questo, guardate qualcosa di più, guardate qualcosa di più. Perchè, potete tornare a questo, dovete essere curioso e continuare a trovare nuove cose. È importante persistire, ma non troppo. Beh, potete persistire, ma non diventate confinati a un problema. Grazie. Ok, ecco, felicità. Ok, grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.